Ciao! Questo è il tuo speciale appuntamento con lo yoga. Anche oggi avrai bisogno di un tappetino. Inizieremo subito con un riscaldamento, poi la mini sfida dell'albero. Successivamente imparerai tre nuove tecniche che metteranno a dura prova il tuo equilibrio. Vediamo di cosa si tratta. La mezzaluna, il cobra e la palma. Prima di tutto un bel riscaldamento. Iniziamo con la testa. La incliniamo da un lato, poi la raddrizziamo e la incliniamo dall'altro lato. Ripeti ancora da un lato e dall'altro. Ora sciogliamo il collo facendo ruotare la testa. Due giri completi. Prima da un lato e poi dall'altro. Ed ora passiamo alle spalle, le solleviamo e le ruotiamo all'indietro. Ed ora ruotiamole in avanti, almeno per tre volte. Ed ora braccia aperte, tutti da un lato. Torna al centro e poi dall'altro lato. Di nuovo da un lato, centro e altro lato. Ed ora il bacino. Lo spostiamo tutto da un lato appoggiandoci su una sola gamba e cominciamo a ruotare. Disegniamo dei cerchi con il nostro bacino come se stessimo giocando con la hop. Ruoteremo anche dall'altro lato. Per concludere il nostro riscaldamento, passiamo alle caviglie. Schiacciamo la punta del piede contro il pavimento e ruotiamo, ruotiamo, ruotiamo. Passiamo all'altro piedino. Sapete, la punta si chiama avampiede. Ruota, ruota, ruota. Ottimo! Ora sei super pronto! Mettiamo subito alla prova il tuo equilibrio con la sfida dell'albero. Qui dovrai essere particolarmente bravo a tenerti su una gamba. Concentrati guardando a un punto fisso, senza perdere la posizione, fai l'albero alto con le braccia su, l'albero basso con le braccia giù e l'albero dalla larga chioma. Ora appoggia a terra la gamba e ripetiamo con l'altra. Ti raccomando, non barcollare, concentrati. Braccia su, giù e aperte. Se il tuo esercizio non è stato perfetto, non preoccuparti, vorrà dire che ti eserciterai. Ed ora le nuove pratiche. Per eseguire la mezzaluna portiamo in alto le nostre braccia. Uniamo le mani e piano piano ci pieghiamo da un lato. Senza esagerare. Non inclinarti in avanti, ma cerca di restare dritto lateralmente. Mantieni la posizione cercando di rimanere immobile. Torna dritto e ripetiamo l'operazione dall'altra parte. Ti raccomando, non forzare. Arriva fin dove puoi, ma non esagerare, altrimenti la luna si farà male. per eseguire la posizione del cobra ci metteremo comodi comodi sul nostro tappetino. Ci adagiamo a pancia in giù. Le mani le metto vicino alle spalle. Con l'aiuto delle braccia ci tireremo piano piano su. Solleveremo le spalle e anche il viso. Adesso assomigliamo a un cobra. Mantieni la posizione contando fino a cinque. Torna giù e ripetiamo. super! Per eseguire per eseguire la posizione della palma ci gireremo di lato. Con un movimento in avanti portiamo in alto le braccia. Adesso andiamo sulle punte e cerchiamo di mantenere la posizione. Non sarà facile. Cerca di sentire il pavimento sotto ai tuoi piedi e accomoda la posizione per trovare l'equilibrio. Ma a questa palma mancano le foglie. E allora portiamo in avanti le braccia con una rotazione fino ad aprirle lateralmente. Ed ecco le foglie. Ecco la nostra palma. Sei riuscito a mantenerti sulle punte? No? E allora riproviamo. Fai riposare un po' i piedini a terra. E quando sei pronto, sulle braccia e sulle punte. Prima di lasciarti, voglio proporti questa routine di pratiche. Così puoi allenarti quando vuoi. ricordi il saluto al sole? Tiriamo sulle braccia ma questa volta andiamo anche un po' indietro con le spalle e viso rivolto al cielo. Vai giù senza piegare le gambe. Prendi le tue caviglie. Guarda, c'è anche il gattino che saluta la terra. Ora piegando le gambe andiamo giù e facciamo un'estensione della gamba all'indietro. Resta dritto con la schiena. Ripetiamo anche con l'altra gamba. Questo movimento oggi ci è particolarmente utile. Torna a piedi uniti e poi con uno slancio tira le gambe all'indietro. Ed ecco qui. Facciamo il nostro cobra. Ci stiriamo bene all'insù. Torniamo giù e facile facile andiamo alla posizione del cane a testa in giù. E il gattino poi ci rimane male. Quindi gattino gobba su e gattino gobba giù. Sei pronto al gran finale. Prendi le caviglie, raddrizza le gambe, tieni un po' la posizione, torno su con le braccia in alto, poi le porto avanti ruotando, le apro e sulle punte. Abbiamo fatto la palma in versione semplificata perché ci siamo alzati sulle punte solo alla fine. Ma va bene lo stesso anche così. Anche la sessione di oggi è terminata. Siete stati bravissimi. Non era per niente semplice. È stata anche dura. Avete meritato un grande grande abbraccio e anche una grande merenda. Alla prossima bimbi!